buongiorno ragazzi youtube oggi vi parlo di un ragazzo in cui il nome molto molto conosciuto martinelli questo è il comune ovviamente e è una persona che si aggira tutte le parti non è l'epoca uno pedofilo non mi preoccupa non mi preoccupa quando l'ho visto per la prima volta ho detto ma sei il braigno poi ho scoperto che ok ok oddio si chiude la porta del bravigio non cazzo ma mica lo sentito entrare per seguito dai ok ok oggi siamo qui con martinelli hai portato qualcosa? no come no tornaci un po' di te ti devo dire questo è martinelli ciao ragazzi ciao ragazzi ciao